Elvio ci ha proposto di visitare Berlino e noi accettiamo con entusiasmo questo primo importante viaggio in moto. Fino al Brennero il tempo rimane discreto ma verso l'Austria cominciamo a vedere le prime minacciose nuvi. Dopo pochi chilometri cominciano le prime gocce che si tramuteranno in pioggia battente nel prosieguo del viaggio. Mi scusi signor Mario Cianci, mi dica com'è il tempo? Seppo l'acqua mi sta pioggia viene giù. Siamo pronti acqua tedesca. Ma quanto manca ad arrivare signor Mario? 25 minuti. Comunque acqua di Colonia. Gensensburg. Gensensburg. Sombronello? Che due palle. Monica ce la facciamo? Ho detto meno male che abbiamo messo la tuta per qualcosa e non per niente. Ah già, come? Sì, domani chissà che venite a giù di più. Così a me quando parremo qui in fondo che si dava col. Profiatico, borsa sabatoio. La meta è all'orizzonte. Siamo finalmente giunti a Regensburg. Prima tappa del viaggio. Sì, domani chissà che venite a Regensburg. Sì, domani chissà che venite a Regensburg. E' ora di ritornare in albergo per la notte. È stato un viaggio faticoso a causa della pioggia, ma la città meritava la visita e il tempo ci ha graziato. Secondo giorno. Il tempo non promette niente di buono, ma dobbiamo solo arrivare fino a Berlino. Le autostrade tedesche sono una noia mortale. Verso mezzogiorno vediamo un cartello che indica un paesino turistico, quindi ne approfittiamo per uscire per una sosta. Il paese è veramente carino. Il nome non ce lo ricordiamo e forse non lo sapremo mai. Sì, domani. 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 Oggi la moto resta in garage. La città è a nostra disposizione. Sì, domani. La bandiera bolshevica, il checkpoint Charlie e il museo del muro ci ricordano le nefandezze del passato, non tanto remoto. Per cena scegliamo una famosa birreria dove, dicono, si mangia un pollo strepitoso. Ed è proprio così. Difficilmente troveremo un pollo all'altezza di questo posto. Il muro è rimasto in un pollo strepitoso. Visitiamo uno dei pochissimi tratti dove il muro è rimasto intatto. Ci lasciamo alle spalle la città di Berlino e riprendiamo la via di casa. Sì, domani. La meta del giorno è Praga, ma un passaggio veloce per Dresda è d'obbligo. La vista della città arrivando dal ponte è un gran bel colpo d'occhio. Sì, domani. Sì, domani. Sì, domani. Sì, domani. Sì, domani. Sì. Sì. Sì, domani. 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 Allora, ci lasciamo… Arriviamo a Praga sempre con il brutto tempo. Mi sa che la visita dovremo farla con l'ombrello, che per l'occasione comperiamo sul posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lasciamo Praga con un po' di sole e ci dirigiamo verso Salisburgo. She's a girl in a world, she's moving as fast as she goes. Lungo la strada troviamo un bel castelletto che ci permette di fare una breve sosta e vedere che i fiumi ciechi sono messi molto peggio dei nostri. She's dreaming of somebody new or someone for to hold. She's praying the dream will come true. Show me the way, show me, show me how, help me, be brave for love. Arrivando a Passau, verso mezzogiorno, non possiamo non fermarci. Qui vediamo il risultato delle piogge che hanno messo sotto l'acqua mezza Germania. Il Danubio ha quasi invaso la città, mancano solo pochi centimetri. Visitiamo Salisburgo al calare della sera. Abbiamo poco tempo a disposizione, ma avremo modo di rifarci. A fine serata prendiamo il tram per il rientro. Che furbi, abbiamo sbagliato direzione, arriviamo al capolinea al lato opposto della città. Fortunatamente non era l'ultima corsa. Buonanotte! È il giorno del rientro. La via di casa è stata presa. Innsbruck ci segnala che l'Italia è vicina. La via di casa è stata presa. 2500 km e la stanchezza si fa sentire. Ma i ricordi di questa bellissima vacanza rimarranno vivi per sempre.